In questo momento i ragazzi hanno appena ricevuto una chiamata. La sala operativa, attraverso un codice, ha identificato quella che è l'emergenza. I ragazzi hanno preso questo codice che contiene tutte le necessarie informazioni, quindi per quanto riguarda la tipologia di intervento, il luogo e l'urgenza, attraverso un codice a colori. Si sono preparati, sono saliti in ambulanza e immediatamente hanno dato la partenza alla centrale e in questo momento si stanno recando sul posto. Inizia così uno dei tanti soccorsi della Croce Rossa italiana qualche istante per partire e arrivare nel posto da cui è arrivata la chiamata. Qua nella sala operativa riceviamo le chiamate per quanto riguarda l'emergenza territoriale e gestiamo tutti quelli che sono i trasporti sanitari e le assistenze sanitarie. Croce Rossa Ancona, buongiorno. Nella giornata mondiale della Croce Rossa, che celebra quest'anno 160 anni dalla nascita, siamo stati nella sede di Ancona insieme al vicepresidente Francesco Lupacchini. Festeggiamo appunto questo importante anniversario con i nostri 500 volontari che si articolano su turni di emergenza sanitaria e forniscono alla popolazione un essenziale supporto in collaborazione con la centrale operativa territoriale della regione Marche. Proprio in questa settimana nel che a Buluogo è partito un nuovo corso di accesso e formazione per i nuovi volontari che vogliono entrare a far parte della mezzaluna rossa arrivata ad Ancona per la prima volta nel 1866. In occasione della battaglia di Lissa, quando la flotta ha subito una coccente sconfitta e ha riparato ad Ancona. In questa occasione si sono organizzati i primi campi di Croce Rossa per soccorrere quelli che erano i marinai ovviamente feriti a seguito di questa coccente sconfitta. Croce Rossa e anche trasporto sanitario per persone anziane o allettate, soccorso in mare, collidroambulanza e attività di sensibilizzazione, su gender gap, malattie sessualmente trasmissibili e violenza. Ma il cuore pulsante rimane il soccorso sanitario, missione sulle spalle di chi ogni giorno sceglie di essere al fianco dei cittadini.